oh giovani amici di facebook facciamo oggi un unboxing di questo controller super particolare rilasciato da steam negli scorsi mesi che ha avuto diciamo una ricezione un po' particolare del pubblico perché è veramente molto strano rispetto ai controller soliti a cui siamo abituati andiamo a vedere cosa c'è dentro la scatola e vi spiego velocemente insomma in cosa è differente rispetto ai controller soliti da console o da pc figa direi la scatola il controllo si presenta poi qui direttamente sono già fornite le due batterie doppia quindi stilo che servono per farlo funzionare la durata più o meno l'autonomia dichiarata è di 80 ore quindi molto peccato che non abbia delle batterie ricaricabili ma insomma meglio di niente questo è il controller insieme c'è chiaramente anche il ricevitore usb che collegherete al vostro pc per farlo funzionare vediamo che altro c'è nella scatola sicuramente un sacco di cartaccia questo direi che serve per il ricevitore con una porta micro sb lo fa funzionare in questa maniera nella scatola c'è anche un cavo un micro sb che serve anche per collegare direttamente il controller al pc in modo tale da farlo diventare wired quindi le 80 ore di cui parlavo prima se le batterie si scaricano perlomeno è possibile collegarlo via cavo e farlo appunto diventare wired e non avere problemi di autonomia la classica quick start guide e steam controller product guide semplicemente qui vi fa vedere appunto come inserire le batterie e come utilizzare il ricevitore proprio come immaginavo appunto o direttamente in una porta usb o attraverso questo piccolo doc per il ricevitore fornito il controller in sé come dicevo è davvero super particolare perché ha oltre alla classica levetta che a cui siamo abituati a queste due superfici di controllo che non sono altro che due touchpad quella di sinistra presenta una traccia semplicemente per diciamo una guida per le dita per farlo diventare una specie di di pad mentre quello di destra è completamente libero appunto può essere utilizzato in diverse maniere da dentro il software di steam che viene installato insieme al controller dentro appunto a steam è possibile come configurare il controller in diverse maniere fondamentalmente c'è un joystick modo un mouse mode o uno scrolling mode cioè si può far simulare al controller l'utilizzo come se fosse un mouse collegato quindi fondamentalmente muovete le dita qua ed è come se steste controllando direttamente il puntatore del mouse ad esempio queste superfici sono anche cliccabili per cui si può direttamente interagire con il controller sia sinistra che a destra quindi sopra sotto sinistra destra è anche qua uguale si può cliccare oppure muovere semplicemente le dita ci sono due tasti principali che sono il classico select e start c'è un tasto steam chiamiamolo così che apre poi la dashboard o la big picture mode di steam a cui siamo abituati se utilizzate steam normalmente ci sono quattro tasti principali x y a e b una levetta a analogica classica chiamiamola così mi sembra molto ergonomico è particolare perché vedete si sviluppa verso l'alto invece che verso il basso come siamo abituati per esempio su il controller della 360 o della one direi molto comodo in mano di base vi spinge a utilizzare queste superfici e non la levetta e i tasti ma che sono comunque raggiungibili abbastanza facilmente sul retro del controller ci sono due tasti inferiori a cui si arriva con le altre dita libere questi qua di destra e di sinistra direi comodi praticamente qui sotto riuscite arrivarci con tutte le altre dita invece gli indici sono destinati ai tasti qui sul fronte ne abbiamo due superiori classici quindi single click e due grilletti che non sono grilletti analogici ma sono a due stadi quindi sono praticamente si possono premere fino in fondo o fino a metà sente la metà sulla parte frontale c'è la porta micro sb di cui vi parlavo prima che non serve per ricaricare il controller perché non ha una batteria ricaricabile ma funziona con delle mini stilo ma serve per appunto trasformarlo in controller via cavo la figata di questo controller è in gran parte il suo software è completamente configurabile per ogni videogame presente su steam la maggior parte o comunque moltissimi dei giochi presenti su steam sono già ottimizzati per questo controller che è appunto il controller ufficiale di steam per cui tutti quanti gli sviluppatori hanno già ricevuto le sdk e le specifiche per farlo funzionare al meglio ma la cosa molto figa è che è possibile comunque configurare il controller anche per i giochi che non lo supportano ufficialmente andando appunto a simulare il mouse o un altro tipo di controller questi profili mega figata sono charabili dagli utenti per cui qualunque utente che si mette lì e configura il controller per quel determinato gioco che ancora non lo supporta può poi charare quel profilo su un tutto quanto un database interno presente in steam molto comodo da raggiungere e quindi fondamentalmente si può dire che quasi tutti i giochi presenti in steam supportano di base lo steam controller all'interno del controller è presente un accelerometro e un giroscopio che è utilizzabile appunto per comandare anche in altre maniere i giochi quindi si possono fondamentalmente appunto muovere il controller e avere un feedback direttamente dentro gioco a cui si si sta giocando l'autonomia dichiarata come vi dicevo prima è di 80 ore la distanza massima tra il ricevitore fornito il controller stesso in modalità wireless è di 5 metri la qualità della plastica devo dire non è eccezionale in questo steam controller non è neanche una merda però comunque non siamo diciamo al top che si può trovare sul mercato devo anche dire però che il prezzo si allinea agli altri controller più diffusi appunto sul mercato attorno ai 55 euro quindi non mi aspettavo neanche di trovare questa qualità super eccelsa le batterie come vi dicevo prima si inseriscono in questa parte diciamo inferiore del joypad c'è qui un tasto lo vedete che sempre molto fa saltare questa copertura rivela poi un po' di informazioni per la sicurezza e altre robe che per una volta non sono diciamo stampate esternamente ma nascoste appunto quindi carina sta roba e le batterie vanno infilate qua con una disposizione molto strana a destra e a sinistra finiscono praticamente dentro a questi due rigonfiamenti che servono un po' sono ergonomici per le mani per togliere le batterie ci sono due tasti appositi perché sono veramente incastrate in una maniera molto strana ci sono anche queste due connessioni in rame che immagino io servono a ricaricare il controller in una qualche maniera oppure potrebbero essere due connessioni che servono per attaccare degli accessori nella stessa maniera in cui si collega ora questa copertura copertura che ospita anche in realtà i tasti inferiori di cui vi ho parlato prima il controller in sé è disponibile solamente in nero direttamente dallo steam store dove vi consiglio di acquistarlo io l'ho comprato lì per 55 euro più o meno a cui si aggiunge un costo di ispezione molto limitato non è ancora presente purtroppo su amazon a un prezzo decente ma solamente da qualche venditore che si approfitta un po' della situazione perché l'ho visto a 150 euro una vera follia quindi vi consiglio di andarlo a comprare direttamente sullo store di steam vi lascio poi il link qui sotto come al solito in descrizione se vi è piaciuto questo video dello steam controller se vi piacciono i miei video di incaut unboxing fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di incaut unboxing ciao ragazzi